Nella vigna di Leonardo da Vinci un omaggio questa sera ai tesori, all'eccellenza del Made in Italy, passando ovviamente per l'agroalimentare. L'arte e la cultura hanno dominato questa serata, però è anche vero che c'è un legame indissolubile tra ciò che noi mangiamo, quindi ciò di cui noi ci nutriamo, e la nostra salute. Noi siamo ciò che mangiamo. C'è una relazione anche tra il tipo di alimentazione e alcune patologie che riguardano la nostra vista. Come mantenere dunque uno sguardo attento per non perdere di vista nella vita le cose importanti? Senza ombra di dubbio la qualità della vita e l'alimentazione è fondamentale nel mantenere una buona acquità visiva. Ormai è certo che l'alimentazione corretta e ricca di tutte le proprietà che servono per il mantenimento della buona funzionalità della parte più importante dell'occhio, che è la retina, determinano sì che il mantenimento sia duraturo nel tempo e ritardano, se quasi non annullano, alcune malattie dell'occhio, in particolare della retina, che ormai ben note possiamo definire come degenerazione maculare senile. La degenerazione maculare senile la possiamo trovare nella forma umida e nella forma asciutta, quindi nella forma secca. Per entrambi i casi, comunque per evitare o per ritardare che ciò avvenga, che si manifesti la malattia, senza ombra di dubbio è importante una corretta alimentazione. Lo scenario di questa sera ci ha fatto vedere quanto è importante effettivamente l'alimentazione corretta, ricca di tutte le vitamine, di tutti gli elementi che servono a questa, a mantenere una buona salute sia generale che dell'occhio. Di certo non poteva essere uno spettacolo migliore, un ambiente migliore, perché noi sappiamo che Leonardo da Vinci, per Leonardo da Vinci la vista era l'elemento fondamentale, primario, per cui ancora oggi ci sono degli studi di Leonardo da Vinci molto validi e certamente questo ci porterà, grazie anche a quello che erano gli elementi di Leonardo da Vinci, quindi alle scoperte di Leonardo da Vinci e se vuoi anche di Galileo, quello che sono i discorso legati ai telescopi miniaturizzati oculari per andare incontro a quello che è il discorso di una prevenzione e correzione di un'eventuale malattia tipo la degenerazione maculare senile, in questo caso di tipo secco. Oggi per la degenerazione maculare senile, a differenza della degenerazione maculare di tipo umido, che si cura con delle iniezioni intraoculari, l'unica soluzione che noi abbiamo è appunto un'alimentazione ricca di tutti gli elementi che magari durante il percorso di vita non si sono assunti e quindi questo ha fatto sì che ci sia questa degenerazione del tessuto retinico, quindi una riduzione di quello che è la capacità visiva. Però quando questo ormai il quadro magari viene scoperto in tempi avanzati, se non è più possibile il recupero del tappeto retinico, automaticamente si può ricorrere a questo impianto particolare di cui l'Italia è un po' leader nel mondo perché questi sistemi telescopici miniaturizzati, quindi queste lenti artificiali intraoculari vengono prodotte in Italia e vengono distribuite in tutto il mondo, tanto che l'Italia viene chiamata spesso come opinion leader nel mondo a partecipare agli impianti di questi sistemi.